Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere una metodologia di lavoro per la realizzazione dei video a 360 gradi o meglio come si lavorano e si montano in Adobe Premiere Pro. Questa è una lezione che esula dal corso di Premiere ma sotto un certo punto di vista ne fa parte. Dato che è un argomento abbastanza discusso in questo periodo voglio approfondirlo e spiegarvi quali sono i processi per poter editare, montare, pubblicare un video in 360 gradi con Adobe Premiere Pro. Allora abbiamo il nostro Premiere aperto vado ad importare delle clip che ho girato in 360 gradi. Attenzione adesso vi mostro una delle clip. Non ho fatto nulla di particolare sono semplicemente delle clip girate con la LG 360 cam e poi convertite con l'applicazione in dotazione sullo smartphone. Ci sono altre camera 360 gradi in commercio forse anche migliori di questa, ad esempio una delle quali è la Theta S che gira video decisamente più definiti ma l'LG 360 cam è un ottimo compromesso qualità prezzo se volete cominciare a realizzare dei video a 360 gradi. Altrimenti se volete realizzare dei prodotti molto più professionali vi consiglio un rig per delle GoPro con insieme naturalmente da inserire all'interno del rig almeno 6 GoPro. Vediamo la parte pratica ossia come si lavora un video a 360 gradi. Come vediamo quello che noi avremo da poter montare sono dei video praticamente deformati che leggono tutta la mappatura a 360 gradi della camera quindi questo punto qui corrisponderà a questo qui. Non dovremo vedere il taglio quando andremo a vedere il video con uno strumento adatto. Come si fanno ad editare? Sono dei video semplicissimi quindi sono dei file video normalissimi che noi possiamo tranquillamente andare ad importare all'interno del nostro progetto e come vediamo questa camera in particolare lavora a 30 fotogrammi al secondo. Non esiste un progetto specifico o particolare con cui si lavora a 360 gradi. Per questo per creare la timeline con le medesime impostazioni ho fatto una semplice operazione quella di trascinare nel pannello della timeline una delle clip così facendo la timeline ha assunto tutte le proprietà di quella clip. Vi rimostro il processo ma è molto semplice basta cliccare e trascinare una clip con le proprietà che ci interessano della nostra timeline all'interno dello spazio vuoto. Così facendo Premiere ci creerà una timeline con le proprietà adatte a quei file video che noi stiamo andando a lavorare. L'LG 360 cam in particolare registra clip audio in 5.1 quindi generando in automatico una sequenza Premiere ha generato una sequenza con le tracce audio in 5.1. Come vedete quindi quello che noi abbiamo davanti sono delle clip video con cui noi possiamo andare tranquillamente a montare senza alcuna differenza rispetto ad una clip video normale e classica sono delle clip video che ci permettono di visualizzare un contenuto che si visualizzano in una maniera un po' particolare quindi con questa vista specifica. Dalla versione 2017 della Creative Cloud Adobe ha aggiunto all'interno di Premiere una funzione specifica per l'editing dei contenuti a 360 gradi ossia il monitor di controllo a 360 gradi. Andiamo a vedere come funziona e come si attiva. Come per tutti i pannelli adesso abbiamo questo pulsantino con il più con cui possiamo andare a selezionare e trascinarci all'interno delle nostre opzioni questa funzione qui che se ci rimaniamo se rimaniamo fermi col mouse verrà descritta come visualizzatore video VR. Eh sì perché quello che noi stiamo andando a fare si sono dei video a 360 gradi ma sono detti in VR ossia virtual reality. Se noi clicchiamo sopra questo pulsantino quello che ci verrà attivato è un monitor a 360 gradi che legge le clip a 360 gradi ossia quello che noi andiamo a vedere possiamo tranquillamente con il mouse muoverci nello spazio vedremo il contenuto come lo vedrà il nostro fruitore utilizzatore finale. Quindi io mi posso tranquillamente spostare nel tempo e cominciare a guardare e vedere i miei video a 360 gradi così come lo guarderà lo spettatore. Per prima cosa andiamo a vedere quali sono le impostazioni di questo monitor specifico con cui noi possiamo allargare il nostro campo di vista. Cliccando con il tasto destro sul nostro monitor programma possiamo andare nella voce video VR e andare nella voce impostazioni. Andando nella voce impostazioni noi possiamo scegliere in questo caso disabilitato se stiamo guardando l'occhio di sinistra o l'occhio di destra nel caso sia un video stereoscopico e la funzionalità è come è stato registrato quindi se è sopra e sotto o destra e sinistra quindi side by side. In questo caso quello che voglio fare è aumentare l'angolo di visione a 180 gradi forse un pochino di più anche sulla verticale aumentandolo a 90 gradi così da avere un angolo di visuale leggermente più grande quando ci sposteremo. Su per giù quello che mette a disposizione Google su YouTube per la riproduzione dei video a 360 gradi è impostato di default su 180 gradi di orizzontale e 90 in verticale. Ho semplicemente montato un video a 360 gradi senza questa visualizzazione quindi deselezionando questa opzione quello che noi vedremo è questo. Naturalmente per chi non riuscisse a rendersi conto del risultato guardandolo in questo modo può tranquillamente utilizzare questa visualizzazione per poter far scorrere il video e muoversi all'interno dello spazio per poi testare quello che sarà l'esperienza di chi vedrà il video. Come per tutti i video e per tutte le tecniche di montaggio possiamo tranquillamente utilizzare degli effetti che possono essere delle curve quindi prendiamo ad esempio delle curve ed inseriamole sulla nostra clip quindi possiamo andare normalmente come normalmente a modificarne i parametri. Quindi mettiamo l'effetto dappertutto. Io posso applicare delle dissolvenze al mio materiale naturalmente dissolverà anche nella visione a 360 gradi come un'altra cosa che posso fare è andare ad aggiungere dei titoli. Titoli come si aggiungono e cosa succede? Vediamo un attimo andandone a creare uno. Andiamo ad accentrare, lo facciamo un pochino più grande così che sia visibile. Andiamo ad aggiungere sul nostro video. Naturalmente noi adesso lo stiamo vedendo in piano ma se abilitiamo la visione a 360 gradi quello che vedremo naturalmente è un titolo che viene rielaborato dal lettore a 360 gradi quindi lo vedremo curvo. Perché lo stiamo vedendo curvo? Perché quella che è queste immagini viene mappata sopra di una sfera quindi questo video prende più della metà della sfera. È normale che noi non riusciremo mai a vederlo intero. Se vogliamo invece vederlo intero dobbiamo farlo molto più piccolino che prenda una porzione massima di 100 gradi in questo caso dove abbiamo settato il nostro player a 180 gradi. Ad esempio andiamo a stringere il tracciamento. Quello che ne verrà fuori adesso è che noi avremo tutto il titolo all'interno della nostra area di visione. Il titolo che possiamo andare a spostare. Alzzarlo un pochino. Quindi noi qui avremo il nostro titolo. Lo spettatore si può girare tranquillamente col suo cellulare oppure utilizzando e può andare a scoprire quello che è il personaggio che sta camminando. Ultima fase non meno importante è quella dell'export. Ossia diamo un in e un out al nostro video e per esportare Premier dalla versione 2017 in poi ci dà la possibilità di bypassare determinati passaggi per la pubblicazione di video a 360 gradi. Mi spiego meglio. Fino a poco tempo fa, quindi prima della versione 2017, noi andavamo ad esportare un file in H.264 con le dimensioni del nostro fotogramma. In questo caso l'LG 360 cam registra in 2560x1280. Quindi quello che andavo a fare è esportare un H.264 con queste dimensioni e poi il file andava passato in un programmino che aggiungeva dei metadata che erano riconosciuti dalle piattaforme dove andavamo a caricare il video a 360 gradi, come ad esempio YouTube o Facebook. Dalla versione 2017, sotto una volta impostato la nostra codifica, quindi ad esempio questi qua sono i miei parametri, metto ad esempio una codifica m3 tcbr a 10 Mbps, scendendo giù nei parametri del video noi abbiamo la spunta video VR. Per emerci domande il video è VR, noi basta che diciamo di sì e lui aggiungerà i famosi metadata all'interno del file e possiamo decidere di dirgli anche se il video VR è monoscopico o stereoscopico, se è side by side, quindi affiancato, oppure le immagini sono sopra e sotto. Questo nel mio caso il video è monoscopico, quindi io vado ad esportarlo. Ok, vediamo adesso cosa succede quando andiamo a caricarlo su YouTube. Sono su YouTube alla pagina di caricamento dei video, ho il mio video a 360 gradi che è questo. Quindi è un normalissimo video con la visione come lo abbiamo montato, quindi l'immagine planare. Andiamo a trascinarlo nella tabellina dell'upload, lo facciamo caricare e vediamo cosa succede. Perfetto, terminata l'elaborazione del video, andiamo ad aprire il nostro file e in automatico YouTube ci riconosce il video a 360 gradi. Naturalmente in questo momento sto utilizzando Google Chrome perché è l'unico supportato, almeno per Apple, perché lavoro su Mac, alla riproduzione di video a 360 gradi. Quindi come vedete in automatico YouTube ha richiamato il video a 360 gradi. Io ne posso tranquillamente muoverci anche con i tasti WASD sulla nostra tastiera oppure ancora con il nostro mouse utilizzando questo comodo cursore. Insomma, questo era come editare un video a 360 gradi e come trattare tale materiale. In sintesi, il materiale girato a 360 gradi con qualsiasi camera essa sia è da trattare come qualsiasi altro materiale video. E va montato quindi come tale. L'unica differenza sta nella visione dove è possibile abilitare la riproduzione a 360 gradi, quindi in virtual reality e nel momento dell'esportazione andare, come detto in precedenza, a spuntare la voce, il video e VR, così che verranno aggiunti i dovuti metadata all'interno del file che saranno riconosciuti da Google, su YouTube o eventualmente da Facebook. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, commentate se avete delle richieste, delle domande in particolare e se vi interessano ancora video di questo genere potete iscrivervi tranquillamente e rimanere aggiornati su tutti i tutorial e video tematici sul mondo della post-produzione che sto realizzando. Arriveranno tantissime novità, sono studiato dei format un po' particolari, spero che siano di vostro gradimento. Quindi che altro dirvi? Ci vediamo in un prossimo video.